Raid vandalico e di violenza contro la tenda della comunità missionaria, porta aperta ad Agrigento. E' appena volata via la folata del vento barbarico. Lorda vandalica ha imperversato. Così, immaginate, più veloce dell'obiettivo della telecamera. Due balordi che entrano dentro, aggrediscono il custode, un extracomunitario che si guadagna il suo pane quotidiano. Lo insultano e lo picchiano, selvaggiamente, poi afferrano una croce in elegno, eccola, e colpiscono il malcapitato. Adesso ricoverato, con un braccio fratturato, in ospedale, al San Giovanni di Dio. Agrigento, la notte della domenica del 25 gennaio, fredda e tempestosa, l'1.30 circa prima dell'alba. La piazza Cavour, la tenda della comunità missionaria, porta aperta, ecco com'è scritto qui. E' delle Rotary Club Agrigento, distretto Sicilia-Malta. Poi il messaggio all'ingresso, poche parole, che però significano tanto. Leggiamole. Benvenuto, ti stavamo aspettando. Ed è vero, da anni le suore e i volontari della comunità regalano un sorriso al mattino, il pomeriggio e la sera. Insieme, il biliardo, il tavolo da ping pong, la lettura, la musica, anche i corsi di scacchi. Qui, leggete. Poi altri cartelli. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, tratto dalla Bibbia. Poi, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ecco perché è come se una chiesa fosse stata profanata, come se il male avesse infierito nella casa di Dio. Le immagini sono testimoni. Ecco un libro, giù a terra, è la Sacra Bibbia. Poi, vetri frantumati, sedie e tavoli sollevati e lanciati. La croce in elegno, usata come bastone, contro l'extracomunitario. Uno come lui, che adesso è qui, al posto del suo compagno. La tenda della comunità missionaria porta aperta, come una oasi nel deserto. Un giardino di speranza, un albero verde anche durante l'inverno. Una goccia, sempre calda, nello stagno di ghiaccio. Una rondine che vola, anche se non è primavera. Adesso tutto ciò rischia di essere cancellato. Le suore sono indignate. Forse, e hanno ragione, hanno anche paura. Hanno denunciato i due vandali ai carabinieri. E l'extracomunitario ferito li ha riconosciuti. Il viale della vittoria, i bar, i palazzi, la piazza, le panchine, le aiuole, i giochi per i bambini, anche il palco, già montato, dove si ballerà e si canterà per la sagra del mandorlo in fiore. La tenda, invece, è in ebilico, come la vela strapazzata di una barca naufragata. Loro, le suore, resisteranno o rinunceranno? La città di Agrigento è dalla loro parte. Anche il disegno di Gesù è stato strappato, scaramentato giù. Però io sono con voi tutti i giorni. Rinunciare è una parola che non sta assolutamente sulla nostra bocca. Non l'abbiamo mai rinunciato. Perché quello che noi facciamo, non lo facciamo così per il gusto di farlo, ma lo facciamo perché lo sentiamo come nostra vocazione, nostra missione. Chi ci manda non è un datore di lavoro umano. Chi ci manda è un datore di lavoro divino. Quindi lui dovrebbe prima chiudere per fallimento, per poter far sì che noi dichiariamo fallimento. Ma siccome lui è vingitore, lui ha vinto e ha sconvitto la morte e quindi ci ha aperto le porte della libertà, non è possibile che possa accettare che noi veniamo meno a un nostro impegno. La nostra comunità missionaria Porta Aperta non è una comunità fatta di suore. Un giornale diceva, ringrazio anche i giornali che ne hanno parlato, suore desolate. Non suore desolate, suore battagliere, suore nauseate, suore schifate, diciamo, di certo atteggiamento, ma non certamente desolate. Il nostro è un cuore colmo di speranza e certo praticamente che alla fine chi avrà la vittoria saranno le forze del bene, non le forze della cattiveria e del male. Non ci sono state mai le istituzioni con noi. Noi siamo stati soli. Cinque anni che siamo sulla strada, sulle piazze e siamo stati soli. Di attenzionamento da parte, diciamo, delle istituzioni pubbliche e private ci sono state soltanto sulla carta, sulle parole. Quella, l'aggressione dell'altra sera non è stata la prima aggressione. Quella è stata la terza, possiamo dire, perché c'è stata una prima aggressione. Un furto, diciamo, di tutte le nostre casse di amplificazione e poi c'è stata l'aggressione del sabato notte, tra il sabato e la domenica. Ora, noi avevamo fatto presente tutte queste situazioni, del fatto che eravamo sola. A che di competenza? Che di competenza praticamente hanno avuto soltanto parole. Di fatti non ce ne sono state. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dato. Voglio semplicemente dire agli agrigentini, che i poveri, non sono soltanto quelli che hanno bisogno di pane e pasta. I poveri sono i vostri ragazzi, quei ragazzi che noi amiamo e che vogliamo servire. Ma aiutateci, perché sono vostri, non sono nostri. Io mi sono fatta sola, figli non ne ho fisici. Però, se c'è veramente del bene dentro di noi, dateci una mano d'aiuto. E alle istituzioni pubbliche e private, dico, cercate di essere presenti. Cercate di essere con noi. L'unione fa la forza. Se ognuno fa per conto proprio, non riusciremo mai a fare, diciamo i miei madri, nocchia a una pupa.